vetrate scorrevoli ad impacchettamento ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di abitazioni private con il sistema bisacchi le vetrate scorrevoli a impacchettamento sono quelle vetrate praticamente a libro che si vanno ad aprire impacchettandosi e aprendo tutta la superficie disponibile della finestra possono essere impacchettamento single tutto sul lato quindi tutto a destra o tutto sinistra o impacchettamento doppio quindi metà a destra e metà a sinistra o un terzo a destra e un terzo a sinistra sono scorrevoli non tanto utilizzati nel mercato italiano in realtà sono scorrevoli che hanno praticamente dei grandi vantaggi il primo grande vantaggio è che ti permettono di aprire totalmente il vano finestra quindi potrei fare una vetrata da 5 metri da 6 metri da 8 metri e aprire completamente il vano quindi mettere in relazione magari la mia cucina con il mio porticato e in estate rendere un ambiente unico questo non lo posso ottenere con una vetrata scorreo tradizionale perché anche se avessi 6 metri di vetrata se faccio un treante e 3 metri mi rimangono chiusi e 3 metri mi rimangono aperti se faccio magari un treante quindi metto 3 binari in questo caso posso aprire i due terzi e lasciare chiuso un terzo però comunque due metri e le avrò praticamente ingombrati da questo da questo pannello di vetro mentre l'impacchettabile mi permette di aprire tutto il vano e qual è il limite il limite è che a secondo del numero di ante che andrò fare avrò più montanti che mi vanno separare luce dei vetri ora occorre capire e vedere insieme quale delle due soluzioni si presta al tuo caso e proprio per questo ho ideato il servizio di consulenza con sistema bisacchi dove posso andare aiutare quelli al quali non produco gli infissi perché lavorando nelle province qui della romagna non posso aiutare tutta l'italia intera e dove appunto con un servizio senza interesse dove io non ho nessun interesse a darti una soluzione piuttosto che un altro andrò ad aiutarti in modo sincero cosa che magari invece che ti sta facendo gli infissi non potrà farlo fino in fondo perché avrà sempre un conflitto di interesse se vuoi saperne di più vai su www.blogguisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata ma affrettati perché ho dedicato questo servizio solo quattro ore settimanali al sabato pomeriggio e i posti sono abbastanza limitati ciao e al prossimo video ciao ciao ciao